Conte ha disertato i funerali di Silvio Berlusconi. Scelta rispettabilissima, ma le motivazioni fanno acqua da tutte le parti. Non è andato per non tradire i valori del movimento. Intanto non c'è nessun movimento, perché ormai è un partito politico a tutti gli effetti. E poi di quali valori sta parlando? Sta forse parlando dei valori dell'ex ministro della Salute e Speranza, che ha nascosto in maniera dolosa le reazioni avverse dei sieri? Sta parlando dei valori di speranza che insieme a Magrini volevano bloccare il sequestro del lotto incriminato che aveva già causato la morte anche di appartenenti alle forze dell'ordine? O forse sta parlando dei valori di Sileri che mentre andava in tutte le tv a beffeggiare i non sierati, adesso ha dichiarato che veniva lui beffeggiato dagli uomini di speranza? O forse vuole parlare dei valori dei 5 stelle di quando dicevano no mai col partito di Bibiano e adesso si alleano anche con i muri pur di non perdere la poltrona? O di quei 5 stelle che in Sicilia si sono alleati con gente politica, con politici poco raccomandabili? Io ho come l'impressione invece che Conte abbia fatto una scelta strategica, che per cavalcare questo anti-Berlusconismo venuto di nuovo di moda, venuto di nuovo fuori, stia cercando di cavalcare l'onda per raccattare voti. Ma noi non ci cascheremo, vero che non ci sia il vostro possiede la propria, vero che non ci caschiram uno? grazie a tutti